Devo partire dalle conclusioni sostanzialmente di Francesco D'Agostino. Allora, se è vero, come ha dimostrato, che un diritto positivo, il diritto positivo, deve necessariamente nascere da un diritto naturale, quindi l'origine del diritto positivo è il diritto naturale, la stessa cosa vale per le leggi economiche. Le leggi economiche devono nascere da un'economia naturale. È così? No. Non è così. E è curioso perché non sia così. Abbiamo fatto tante volte riflessioni su questo punto. Nonostante tre fatti che sono per me molto importanti. Il primo è che l'uomo è nato per operare. L'uomo è stato creato perché operasse, quindi facesse economia. È vero o non è vero? Io dico che non è vero. L'uomo è nato perché pensasse. E conseguentemente, prima di operare, deve pensare. Se no opera male o opera lamentandosi continuamente. Però comunque, l'uomo è stato creato perché facesse qualche cosa. Il secondo punto, per cui mi meraviglia sempre che le leggi economiche non rispecchino l'economia naturale, è che la nascita del capitalismo è di origine cattolica. Il capitalismo è di origine cattolica. Sono ignoranti coloro i quali ritengono che il capitalismo nasca nel mondo protestante. Hanno studiato poco, hanno capito poco. Non hanno affrontato i grandi temi di che cos'è l'economia e di che cos'è il capitalismo. Il capitalismo, se volete, in tutte le sue prime, nei suoi principi, nasce nel XII-XIII secolo. Addirittura le prime elaborazioni, le prime leggi economiche sono fatte da frati francescani. E comunque nasce durante le repubbliche marinare. È invece stato deformato dall'eresia protestante. Vi siete mai domandati con chi era tanto arrabbiato Karl Marx? Contro quale capitale scrive Karl Marx? Contro il capitalismo cattolico o contro il capitalismo protestante? Queste sono cose che dobbiamo ogni tanto domandarci. Il capitalismo protestante, sviluppando una forma forte di individualismo, che è in tutta la sua cultura, sviluppa degli eccessi, che fanno reagire Marx. Se abbiamo avuto il dono del marxismo, lo dobbiamo al protestantesimo. Lo dobbiamo quindi all'eresia. Tutto viene deformato dall'eresia. Tutti i principi anche dell'economia, della morale cattolica. Il terzo punto, per cui mi meraviglio sempre, è che le leggi dell'economia, dell'economia moderna, quelle che oggi vengono chiamate della scuola austriaca, nascono nel 1530 a Salamanca, dalla scuola famosa di Salamanca. Nel 1492 viene scoperta l'America. Il mondo cambia. Ci si domanda quale fosse il diritto naturale degli indiani. Ci si domanda quale filosofia nuova, che prescindesse da quella un po' troppo rigida, medievale, si dovesse adottare. Ma soprattutto ci si domandò quale nuove leggi dell'economia, visto che il mondo diventava grande, gli scambi crescevano, le nazioni cominciavano a prendere un ruolo economico. Bene, pochi sanno, e questo è male, è male perché queste cose non si insegnano e non si studiano più, e quindi noi di apologetica non sappiamo più niente, che le leggi della domanda dell'offerta, dell'uso del danaro, l'interesse, lo scambio, nasce nel 1930, 1530, 1540, a Salamanca, e viene elaborato da frati domenicani, francescani e gesuiti, gli stessi che poi fanno i consulenti all'inizio di Papo Innocento III quando apre il Concilio di Trento. Queste sono cose fondamentali. Allora, visto che le leggi dell'economia sono state riviste dell'economia moderna nel mondo cattolico, visto che i principi del capitalismo sono cattolici e che l'uomo di per sé ha la natura a fare le cose, perché l'economia naturale non sviluppa leggi economiche adeguate. Io potremente l'ho detto perché l'eresia deforma il comportamento, perché gli strumenti prendono progressivamente autonomia morale. Il problema chiave della nostra civiltà dal punto di vista economico, poi probabilmente lo saprà anche da altri punti, è che non sappiamo più distinguere fra fini e mezzi. Diceva giustamente Gaetano Rizzuto che io continuo a sostenere un fatto che non c'è la banca etica, la università etica, la finanza etica, la politica etica, buona quella. Non c'è la politica etica, cioè uno strumento non è etico o non etico. Neanche l'ospedale è etico o non etico. Sono chi ci lavora, chi rende etico o non etico un'attività, uno strumento. Quindi l'etica è umana, personale, individuale, soggettiva. Lo dice il Papa infinite volte nell'enciclica. Quindi questa è la situazione di premessa. L'economia naturale non è trasferita in leggi economiche che la considerano. Nonostante l'economia nasca nel mondo cattolico, nonostante il capitalismo sia originato dal pensiero cattolico e nonostante l'economia moderna sia stata riformulata 500 anni fa nel mondo cattolico. Ma perché gli strumenti hanno assunto autonomia morale? Allora, per dare questa risposta parto da una seconda domanda aperta. Ma quali sono i ruoli che ha l'economia? Quali sono i grandi obiettivi che ci si aspetta dall'economia? Principalmente tre. L'economia deve utilizzare gli strumenti scarsi in natura, le risorse, e valorizzarle. Deve sviluppare uno sviluppo economico integrale per l'uomo e deve distribuire il risultato di questo sviluppo a tutti. Queste non sono leggi morali, sono leggi economiche. Sono i tre principi essenziali dell'economia. Non sprecare le risorse, sviluppo integrale. Avete sentito quando D'Agostino parlava di senza redigione metafisica non c'è sviluppo integrale. L'uomo non è fatto solo di materia. Se qualcuno ritiene che l'uomo sia fatto solo di materia lo soddisfa. Lo soddisfa nella pancia e negli istinti. Ma non soddisfa l'uomo. Lo castra. Questo è evidente. In economia più che mai. Eppure è quello che è successo negli ultimi trent'anni. La soddisfazione materialistica dell'uomo è consumistica. Ignorando completamente tutto. e centrando tutto su una crescita economica consumistica e a debito. Questo però lo vediamo dopo. Ritorno. Che cosa sono i tre obiettivi dell'economia? Non sprecare le risorse e valorizzarle. Perché non sono tue. Creare uno sviluppo integrale per l'uomo. Cioè tenendo conto che l'uomo non ha bisogno solo di consumare ma di vivere. E terzo punto. Distribuire. La distribuzione della ricchezza è una legge economica. Non è legata la bontà alla carità. Quelle sono altre cose. Ma la distribuzione della ricchezza è fondamentale nell'economia. Se tutti sono ricchi si è tutti ricchi. Se pochi sono ricchi non restano ricchi a lungo. Comunque non voglio fare una lezione in proposito. Ci si domanda questi tre obiettivi dell'economia sono stati raggiunti? Se la domanda il Papa nell'enciclica in caritas in veritate. Se la domanda molto bene con grande precisione. Il nostro Papa è un Papa che prende l'uomo per la testa. È un Papa molto razionale. Quindi prima di fare delle considerazioni si è domandato ma l'economia a cosa serve? L'economia ha raggiunto questi obiettivi? La risposta è no. No. nessuno dei tre ha sprecato le risorse. Lo sviluppo non è stato integrale ma soprattutto opportunistico e non c'è stata distribuzione della ricchezza. Prendiamone atto l'economia ha fallito. È vero ci ha dato benessere ma nei suoi tre grandi principi naturali ha fallito perché non ha seguito i tre principi naturali. ha sviluppato delle leggi corollari o delle leggi conseguenti di opportunismo per tenere su il ciclo economico ma le tre grandi principi naturali su cui l'economia doveva sviluppare leggi e realizzarle non l'ha fatto. Per quello l'uomo è convinto che l'economia non sia stata per lui sufficiente e non abbia realizzato quello che lui si aspettava. Per esempio qual è la cosa più importante che l'economia non ha fatto? Ha rinnegato il primo principio naturale quello della crescita economica legata alla crescita delle nascite. Ha snaturato il primo principio negandolo totalmente. Sono trent'anni che il mondo occidentale sostiene una crescita innaturale ignorando completamente la crescita della popolazione camuffandola cercando di compensarla con degli strumenti mal concepiti e mal gestiti che hanno distrutto l'economia occidentale. Ve lo dico però nella conclusione. Perché tutto questo? Perché gli strumenti hanno preso autonomia morale? Perché nonostante i principi del capitalismo i principi dell'economia le grandi leggi siano state formulate nel mondo cristiano cattolico perché abbiamo dimenticato tutto questo? È vero abbiamo detto perché ci sono state le eresie abbiamo visto la riforma protestante di illuminismo il relativismo il nichilismo ma perché siamo arrivati a questo? Soprattutto a questa degenerazione negli ultimi tempi. Bene io adesso giusto per attrarre l'attenzione perché non ci hanno mai più bene insegnato dottrina la responsabilità è di tutti è il fatto che ci hanno insegnato tutto politica sociologia filosofia economia ma non ci hanno più insegnato dottrina se l'uomo non apprende la dottrina dimentica che la vita ha un senso e se la vita non ha senso perché dovrebbero averlo gli strumenti? Come si fa a chiedere al banchiere di dare senso al suo mestiere di banchiere? Al politico di dar senso al suo mestiere di politico? Al giornalista di dar senso al suo mestiere di giornalista? Se la cultura dominante è che la vita non ha senso? Questa è la mia domanda aperta e chi ha concorso a far sì che noi dimenticassimo che la vita non ha senso e quindi le azioni non hanno senso? I preti che non hanno insegnato dottrina. Terza parte qual è la situazione quindi oggi? Ah vorrei soltanto siccome Trespiti mi sta guardando male allora eh? no il vescovo ce lo diciamo detto a tutti ce lo diciamo sempre che c'è ragione c'è ragione no il vescovo non è aperta alla questione anche perché è provocatoria soltanto con l'obiettivo di far sì che da questa parte si chieda che venga insegnata dottrina anche però il problema è che Trespiti mi guarda male allora sai sai no ma ti spiego no non potrebbe non esserlo per una ragione molto semplice che due mesi fa col cardinale Scola e con Don Massimo Camisasca mi invitarono a parlare dell'ultimo libro di Don Massimo Camisasca che si intitola I preti ci saranno ancora? e lui stesso dice non lo so se non insegniamo dottrina anche noi ci estinguiamo smettiamola di parlare del pulpito di politica di sociologia di economia soprattutto che non conoscono neanche le cose elementari dell'economia eppure continuano ancora ad esser guai ai ricchi se non ci sono i ricchi non c'è ricchezza se non c'è ricchezza che cosa distribuisco? la povertà? ci sono cose elementari buonsenso e come si fa la ricchezza che conta e che uso se ne fa essere povero non è mica un merito ma chi vi ha detto che essere povero è un merito? come essere ricco non è un demerito dipende da cosa se ne fa perché? perché la ricchezza è uno strumento non è null'altro che uno strumento un misero strumento è l'uomo che deve saperlo usare infatti la conclusione di tutto leggetevela nell'enciclica come si risolvono i problemi dell'umanità? riformando gli strumenti? con più controlli? con più leggi? con più direttive? no non ce ne frega niente dei controlli perché si supereranno si fregheranno anche i controlli bisogna cambiare l'uomo non gli strumenti ma chi se ne frega degli strumenti abbiamo duemila strumenti è come andare in autostrada dove c'è sito 130 all'ora e io vado a 200 allora dicono per farti fregare porto il limite a 100 km all'ora e vado a 200 quando è che non vado più a 200? quando mi beccano mi arrestano e mi tolgono la patente non è abbassando i limiti come fanno a Basilea 3 dico per fare un esempio in questi giorni allora che cos'è successo negli ultimi 30 anni? rinnegando ogni logica e principio naturale che ispirasse l'economia noi abbiamo fatto 30 anni di crescita economica falsificata che ha camuffato la non crescita legata alla non crescita della popolazione abbiamo negato la vita l'umane vite abbiamo negato la populorum progressio lo sviluppo integrale dell'uomo l'abbiamo negato ignorato e adesso ci troviamo che i paesi ricchi sono diventati poveri e i paesi poveri stanno diventando ricchi non sappiamo ancora quanto perderemo del nostro valore ognuno di voi può contare meno 30% di tutto quello che ha che pensava di avere ma non è che l'avesse gli hanno preso per il naso l'hanno illuso che l'avesse vi faccio solo un esempio l'esempio delle famiglie americane negli ultimi dieci anni le famiglie americane si sono indebitate per consumare e hanno sostanzialmente per l'82-85% ottenuto su loro la crescita del prodotto interno lordo americano negli ultimi dieci anni il PIL americano cresce di media del 3.2% come media su dieci anni le famiglie americane nello stesso periodo si indebitano di 28 punti percentuali in più cioè passano dal 68% di debito delle famiglie a 96 cioè più 28% 28% diviso dieci anni fa 2.8 quindi su una crescita media del 3.2 2.8 è tutta dovuta al debito delle famiglie che nessuno ha mai pagato questo debito non l'hanno pagato per cui si sgonfia tutto saltano le banche i governi devono entrare a salvare le banche e si blocca il sistema finanziario un giornalista di Telelibertà prima mi chiedeva ma è vero che la finanza ha sostituito l'economia negli ultimi vent'anni e allora il problema non è se la finanza ha sostituito o no l'economia sia l'economia che la finanza sono due strumenti ognuno deve essere usato secondo una logica secondo determinati obiettivi e determinate competenze non è male la finanza la finanza può aiutare l'economia evidentemente se non ci sono i polmoni finanziari l'economia anche reale non cresce non decresce quindi di per sé non c'è nulla di male neanche nella finanza il problema è che negli ultimi vent'anni soprattutto l'economia era ferma e la finanza è quella che l'ha tenuta su ma perché l'economia era ferma perché non cresceva il PIL perché non abbiamo fatto figli lo so che qualcuno ancora adesso il professor Sartori ama ama aggredirmi tutte le volte ma mai che accetti una discussione pubblica con me nonostante siano tre volte che lo sfido a dire quello che scrive sui giornali su di me lo venga a dire davanti a me davanti alle televisioni e davanti agli esperti non viene mai è troppo vecchio per la discussione ma non sufficientemente vecchio per regredirmi sul Corriere della Sera in prima pagina e senza nessuna tesi reale dice soltanto più gente nasce più consuma più consuma più spreca risorse più spreca risorse più il mondo il sistema si indebolisce ergo nascite povertà questa è la teoria neomaltusiana se volete no? l'uomo è il cancro dell'umanità dobbiamo estinguere l'uomo torniamo al momento dei catari e potremmo promuovere una nuova filosofia albigese in cui ci auto estinguiamo in realtà succede esattamente il contrario se la popolazione non cresce soprattutto nel mondo occidentale c'è un fenomeno immediato che si innesta la crescita proporzionata dei costi fissi voi prendete centomila persone centomila persone dopo dieci anni è vero sono sempre centomila persone ma la composizione all'interno delle centomila persone completamente variata dieci anni fa quelli che avevano tra i 20 e i 30 anni erano il 30% quelli che avevano oltre i 65 anni erano il 10% tra i 20% x anni dopo è cambiato completamente quelli giovani che si introducono nel mondo del lavoro e producono sono crollati quelli che escono dal mondo del lavoro e bisogna mantenere sono aumentati proporzionatamente quindi la crescita zero della popolazione crescita zero vuol dire due figli a coppia per parlarci chiaro non è crescita zero è tasso di sostituzione quindi non è zero figli quella lì è crescita negativa quella che è cominciata quest'anno in 65 paesi del mondo occidentale tanto che l'ONU è enormemente preoccupata sta buttando fuori un documento di warning dicendo attenzione l'economia non si sostiene se crolla la popolazione il tasso di crescita della popolazione che cosa succede se aumentano i costi fissi che sono i costi delle pensioni della sanità succede un fenomeno che forse pochi di voi hanno ben chiaro aumentano le tasse e nessuno le può più diminuire nel 1975 in Italia il peso delle tasse sul PIL era il 25% nel 95 35% nel 2045% oggi 51 52% fino a quando potremo pagare queste tasse? non lo so che cosa ha fatto quindi il mondo occidentale per compensare la crescita dei costi fissi dovuta a non necessario crollo della crescita della popolazione ha aumentato la crescita a debito a debito vi faccio un esempio negli ultimi dieci anni in Italia ma la stessa cosa vale per il mondo occidentale più o meno vale per tutti il debito dei sistemi economici è aumentato del 50% voi sapete che cos'è il debito? tutti quando pensano al debito pensano al debito pubblico è un'altra è un'altra mancanza signori il debito non è il debito pubblico il debito pubblico è uno delle quattro elementi del debito il debito di un sistema è fatto debito pubblico debito delle famiglie o debito privato debito delle imprese debito delle banche questo è il debito il debito di un sistema per questo è inutile dire ma l'Italia ha il debito pubblico molto alto certo in Italia il debito pubblico è alto ma negli Stati Uniti il debito delle famiglie è altissimo in Germania il debito delle imprese è molto alto in Inghilterra il debito del sistema finanziario è altissimo quindi è inutile dire ma gli italiani hanno fatto debito pubblico l'Italia mi ha fatto malissimo a farlo ma è inutile non mai stare a dirlo ma negli Stati Uniti hanno un monto le famiglie allora negli ultimi dieci anni negli ultimi dieci anni il caso italiano ma è uguale più o meno quello americano come percentuale cioè come numero puro il debito del sistema americano o italiano dieci anni fa era il 200% del PIL cioè il PIL fatto uguale a 100 il PIL il debito dell'intero sistema era due volte il PIL adesso è tre volte il PIL è cresciuto del 50% possiamo sostenere questo debito no non possiamo sostenere lo stiamo sostenendo artificialmente con i tassi di interesse zero ma per quanto tempo si può ottenere i tassi di interesse zero direi non più di 3, 4, 5 anni perché altrimenti si distrugge il risparmio perché il tasso di interesse zero è una tassa occulta di trasferimento da chi è stato virtuoso fesso e ha risparmiato a chi si è indebitato bene noi non sappiamo cosa sta succedendo non lo sa nessuno se qualcuno vi viene a raccontare cosa succede nei prossimi anni sparategli perché vi sta mentendo non lo sa nessuno nessuno qual è la situazione in maniera sintetica del mondo in cui ci troviamo oggi allora il mondo è diviso in due e l'uomo è diviso in tre dico le cose sempre in un modo molto paradossalmente sintetico perché così uno se le ricorda allora il mondo è diviso in due in questo momento ci sono i paesi produttori e non consumatori la cina la india e ci sono i paesi consumatori e non produttori come noi è sostenibile? no l'uomo l'uomo grazie agli ultimi venticinque anni di cattiva concezione dell'economia e di cattiva strategia di ingresso nel mondo globale l'uomo economico si è spaccato in tre c'è l'uomo produttore l'uomo consumatore e l'uomo risparmiatore per sintetizzarla questo è il problema del mondo occidentale è il nostro problema ognuno di noi ha questo problema che lo riconosciamo o no facciamo l'esempio l'uomo produttore l'uomo produttore è quello che lavora da Giglio e prende lo stipendio da Giglio va bene? e io fino a quando Giglio mi dà lo stipendio e mi fa lavorare sono un uomo produttore e genero reddito ma i prodotti di Giglio non mi piacciono cosicché compro i quelli di Garofano e non mi fido del piano strategico di Giglio così i miei risparmi li investo nell'impresa Garofano dopo tre anni Giglio è fallito e io ho perso il posto di lavoro non sono più produttore non sono più consumatore non sono più investitore e questo è quello che sta succedendo nel mondo globale il caso Marchionne della Fiat è questo caro Marchionne faccio il caso soltanto ma il caso Fiat è esattamente il caso Giglio l'operaio Fiat comprava la Toyota perché la Punto non gli piaceva e ovviamente investiva nella Toyota perché era mica matto investire nella Fiat dopo tre anni la Fiat era finita allora cosa fa il genio? porto tutta la produzione in Serbia se porti tutta la produzione in Serbia porti ricchezza capacità produttiva lavoro e manodopera in Serbia allora vendi l'auto in Serbia in Italia non le vendi più perché qui crei povertà lui ovviamente ragiona in termini di opportunità manageriale e ha tutte le ragioni del mondo e lo fa anche provocatoriamente ma non sta in piedi non sta in piedi la divisione in tre dell'uomo economico è insostenibile dura qualche anno quindi noi abbiamo il mondo che non sta che non è sostenibile nella sua rottura e nella sua duplice dimensione di produttori e non consumatori di consumatori e non produttori e l'uomo economico diviso in tre non sta in piedi non è sostenibile che cosa bisogna fare cosa avremmo dovuto fare e cosa bisognerebbe fare e questo soltanto questo allora primo bisognerebbe ricostruire l'uomo abbattere il nichilismo cioè il fatto di pensare che non esiste nessuna verità assoluta che sono tutte balle bisogna imparare a ridistinguere tra fini e mezzi bisogna togliere agli strumenti l'autonomia morale e ridarla bisogna pensare ad uno sviluppo integrale bisogna fare tante cose per adesso però suggerisco di farne una sola visto che non abbiamo dei tempi facili di seguire l'indicazione di Jean Guiton Jean Guiton era molto amico di Paolo VI e scrisse una frase che io continuo a ripetere dappertutto disse Jean Guiton l'uomo possiede veramente solo quelle cose di cui può fare a meno ed è vero perché se non può farne a meno quelle cose vuol dire che possiedono lui e quindi l'uomo non è libero se è una cosa o un istinto a determinare le mie scelte io non sono libero e quindi non possiedo le cose perché non ho la maturità per farlo bene prepariamoci a diventare molto ricchi in questo senso perché dobbiamo abituarci ad avere un po' meno cose che possederemo veramente nei prossimi tempi e questo è ineluttabile signori una crisi come questa si risolve in quattro modi o si fa default come fece l'Argentina e come è vicino a fare la Grecia default non paghiamo più i debiti o si fa un'accelerazione dell'inflazione come in Italia abbiamo già fatto due volte negli ultimi 50 anni distruggendo risparmio e creando scarsa credibilità voi sapete l'inflazione è una tecnica per ridurre i debiti è più difficile farlo nell'euro o si fanno bolle gli americani sanno farle noi no noi possiamo solo fare la bolla immobiliare per chi si crede ma essendo in questo momento un momento di scarso potere d'acquisto delle famiglie vedo difficile una bolla immobiliare mi domando chi compri l'immobile la quarta strada che è quella che vedrete che perseguiremo si chiama austerità quindi prepariamoci a sani cinque anni di austerità subita anche se non voluta si chiama l'immobile la quarta strada è un po' di più Grazie a tutti.